Island ha lasciato blocco di Stati Uniti se anche l'Austria lasciasse blocco di Stati Uniti io sarei abbastanza contento in realtà potremmo risolvere un po' il problema abbiamo due conversioni culturali in corso una che andrebbe fatta in tempi più o meno rapidi intanto saldiamo il debito ah adesso guardate 240 punti azione 937 di fondi adesso si che si guadagna come va la nostra 0,29 siamo tornati su sviluppo medio da alto che eravamo insomma balliamo un pochettino lì perché adesso abbiamo ovviamente conquistato una provincia meno sviluppata generatore di falsi bersagli dai vabbè è un investimento è un investimento è un investimento ci sta ci sta a fare questo investimento per vedere scendere un po' rapidamente per vedere poi poter sviluppare i nostri i nostri carri al massimo livello che ne sono tra l'altro 18.36 giochiamo ancora una ventina di minuti e poi chiudo Inghilterra-Russia però meh la Russia avrà ancora un sacco ecco perché aveva poche truppe da parte la Russia perché era in guerra adesso non ne ha proprio più madò io quanto ci vorrei far guerra alla Russia me lo facessimo tanto in un attimo volgerebbe truppe verso di noi questi poi ci annettono veramente perché hanno dei territori che gli conviene la chiamiamo un po' separatino facciamo una conversione culturale dai investiamo tutto via adesso si investe tutto nel ripagamento del debito pane europea la cecchia come cultura man mano paghiamo e saldiamo il debito torniamo pure alla visuale politica purtroppo questi rimangono in blocco quindi non ci si riesce a smontare a uscirne però il nostro livello guerra fondaio scende e quando ridichiareremo guerra all'Ucraina dal 2053 in poi potremmo farlo non dovremmo avere problemi nel farlo direi che la nostra Romania è ormai diventata una bella potenzina blocco russo blocco russo blocco di Stati Uniti chi ha tirato la bomba la Russia contro il Regno Unito attacco esercito meno due direi che il Regno Unito saluta tra poco tra poco ci saluta potrei rivendicare Istanbul però Istanbul poi l'ha conquistato veramente 52 la borsa valore di Giappone è stata chiusa 22% 63 quanta gente in guerra contro la Russia a questo punto ci andiamo veramente in guerra anche noi non avranno più praticamente unità da poter impegnare potremmo fargli liberare un po' di nazioni l'Austria sempre nel blocco potrei conquistarne una e fargliene liberare altre cosa mi converrebbe conquistare? la Crimea forse? il bacino del Donetsk? mi fai vedere per favore visuale economica 53 121 quello non posso prenderlo 38 62 la Bielorussia che la Lituania 131 questi guadagni questi sono un sacco utili Odessa 34 fa un po' ridere sia anche vero che la Russia potrei prenderla sapendo che poi tanto mi prendo l'Ucraina e quindi taglierei in metà la Russia tanto è Mosca la capitale ma si dai tanto è una partita ci stiamo divertendo facciamo questa follia come siamo messi come esercito? devo ruolare qualcosa? ma no di truppe ne ho abbastanza compriamo un po' di questi compriamo un po' di aerei il resto in aerei e dichiariamo guerra alla Russia prima che finisca la guerra contro l'Inghilterra perfetto dichiariamogli pure guerra solo che loro hanno un sacco di unità che non sono le loro ah però quindi sono anche più indeboliti in realtà ci sta ci sta secondo me l'unico problema è che potrebbero darci un sacco di truppe infatti ci hanno messo contro comunque un sacco di truppe però secondo me potremmo avere buone chance perché loro comunque si aiuteremo la nostra gente danni di guerra ma non abbiamo danni di guerra così alti non possiamo permetterci è inutile sprecare soldi se tanto non hai un guadagno conquista delle strade conversione completata a Slovacchia crescita della disoccupazione dobbiamo combattere questo problema adesso lo combatteremo anche un pochettino più rapidamente abbiamo vinto il fronte sicuro generatore di falsi oh cazzo 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 che succede qua? ci uniremo a questa guerra oppure non è la nostra guerra ci uniremo a questa guerra va bene stiamo distruggendo gli aerei ne prendiamo una e ne prendiamo due assolutamente i trasporti ci servono loro stanno cercando di distruggerci aerei noi adesso invece cercheremo di fottere loro prendiamo un poco minaccia terroristica ma non è ancora arrivato l'attacco aggiungi riserve abbiamo arruolato roba arruoliamo un po' di fanti eccoli qua eh saremmo dovuti essere un periodo più preparati eh però benissimo ho distrutto anche aerei conquista delle linee di rifornimento siamo riusciti a evitare che ci distruggessero loro aerei questo mi sembra ottimo facciamo una guerra un periodo più normale lo stiamo provando a rifare fronte sicuro noi tra poco abbiamo un miglioramento dei nostri aerei ok ok modificatore attacco fanteria facciamo i bagagli minaccia rimaniamo un po' senza unità di fanteria conquista delle linee di rifornimento conquista degli aeroporti suprema conquista degli aeroporti dai va bene dai che ci scappa ci scappa un bel lavoro ci scappa di riuscire finalmente a battere una potenza così io ho solo paura che parta un'atomica la mia sola paura è che parta un'atomica perché se parte un'atomica ragazzi eh terroristi trovati in uzbekistan catturiamo adesso li cattureremo oh 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 conquista dei cittachiave non ce la facciamo ok quello l'abbiamo fatto torniamo sui commando fanteria attacca fanteria perfetto più uno vediamo un poco aggiungiamo pure ricreiamo qualcosa di fanteria forse 5 di fanteria creiamo ancora 3 aerei e 2 corazzati infatti che 2 corazzati adesso li aggiungiamo li stiamo aggiungendo perfetto ok vediamo se riusciamo a conquistare Kaliningrad fantastico fantastico no non fa il guerriglia non fa il guerriglia sta provando a riconquistare agli aeroporti abbiamo del separatismo critico prima che si ribellino pazienza ci è costato un po' modificatore attacco esercito più uno benissimo 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 facciamo uno stabilire avamposti che ci sta aggiungiamo riserve eccolo lì no hanno tirato su di loro fantastico oh il rischio sta migliorando oh stabilire avamposti che ce la possiamo fare ragazzi prendiamo sti belletti avamposti aggiungiamo le riserve anche una provincia turca abbiamo ancora reso quanto abbiamo adesso di guerra a fondaio 37 niente non riusciamo a rendere quella provincia nostra ci va ancora un po' di fanteria ma si creiamo fanteria che tanto è quella che si sta consumando di più tre aerei dovrebbero arrivare ce la facciamo ok offensiva finale se tutto va bene chiudiamo qua e allora veramente ci mangiamo un bel pezzo di di russia ci mangiamo un bel pezzo di russia con un pizzico di culo con un pizzico di culo ci serve solo quello un po' di culo per riuscire ad arrivare lassù danni gliene stiamo facendo ma troppi pochi loro guerriglia secondo me rischiamo di abbassarci il livello dell'offensiva finale che però lentamente se siamo riscesi giù allora creiamo un po' di fanteria e un po' di carri che ne stiamo consumando purtroppo stiamo consumando unità tra un po' non potremo più permetterci questa offensiva no rinuncia si allora fammi un po' di guerriglia anche tu negoziati di pace se io ti chiedessi ottieni provincia questa che è il nostro obiettivo e ti chiedessi anche di liberare che cacchio ne so cosa ti faccio liberare qualcosa che è nel nulla cosmico tipo la Siberia che tu ci rimetti poco io vado a 35 in più ok perfetto vabbè nasce la Siberia va bene fantastico 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 che bomba questa è sulla Russia ragazzi direi che abbiamo fatto un gran lavoro perché siamo riusciti a ottenere una provincia russa il guerra fondaio non è salito tanto liberando adesso ci mangeremo l'Ucraina e connetteremo con la provincia russa che peraltro non ci da moltissimo di siamo tredicesimi come PIL abbiamo pochi fondi ma pazienza perché abbiamo un sacco di debito potremmo addirittura superare la Francia cazzolina cazzolina direi che di oggi abbiamo chiuso una roba grandiosa una roba veramente veramente grandiosa controllo meno uno malcontento più tre ma si controllo meno uno non voglio adesso devo evitare di abbassare un po' il malcontento devo cercare di abbassare un pochettino malcontento paghiamo un pochettino di debiti ingenti danni minchia quanto abbiamo i danni di guerra e vabbè arriveranno anche loro guerra tra Cina e India quindi l'India non romperà più le balle alla Russia a qui abbiamo mangiato un territorio direi abbastanza importante va bene ci stiamo espandendo in Oriente commando allora direi che andiamo a vedere se in economia possiamo rifare la borsa valori sì ma prima di rifare la borsa valori quanto ci costa riaprire la burca prima di ricostare a questo punto direi che credo che non la apriremo più andiamo su azioni ad hoc e facciamo la ricostruzione post bellica che ci costa un po' di mantenimento ma pazienza accettiamo le modifiche uh uh cazzo devo ammazzare questi terroristi eh lo so fronte sicuro avanzata frontale perfetto vabbè vinciamo senza grossi problemi prestare un'opportunità ma sì per 120 giorni non è un problema conquista degli aeroporti perfetto prima 120 giorni vuol dire 6 mesi a fine mese dovremmo tornare a posto tra l'altro adesso questo ce l'abbiamo cosa potremmo fare gli avanzamenti per avere meno facciamo i programmi culturali torniamo a 70 di sviluppo e dai però ma quanti me ne fa danni più 20 procediamo comunque con l'offensiva chiudiamo solo questa va prima oh cazzo non sto più pagando stabilire avamposti 1500 ci costa come due mesi però in realtà non ce la dovremmo fare a nulla noi le attacchiamo dopo i terroristi perfetto offensiva finale dobbiamo creare credo un po' di truppe soprattutto aerei iniziamo a essere un po' senza facciamo proprio 10 aerei dai carri armati avanzati migliorati bene potenziamento per carri questo costa poco ok offensiva finale punteggio più 50 fantastico facciamo a pezzi anche loro ci scaucasia fronte sicuro forse dovrei distruggere gli aerei in realtà prima uh uh cazzo questi sono un po' più forti vendiamo un po' di distruggere prima gli aerei perché ho paura che mi mi vengano a rompere le palle in creiamo della fanteria che siamo quasi senza ed è un po' la spina dorsale dell'esercito conquista dei cieli distruzione di aerei continuano a provare a far fronte sicuro per farci fuori la fanteria noi gli continuiamo a far fuori gli aerei no 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 noi finanziamo solo le conquiste nel sistema solare abbiamo perso uno di aereo ma pazienza gli distruggiamo l'ultimo e già così li indeboliamo un po' abbiamo tempo cioè tempo no perché vorrei ridurre i miei danni di guerra se ce la facessimo però decimi come punteggio ma francamente il punteggio è l'ultima cosa che mi interessa in questo momento 24 di guerra fondaio ho intravisto quindi tra poco conquisteremo anche Kiev la fame del mondo che ce fa? puntazione più 1500 ma ma ne abbiamo di puntazione tanto adesso non ne spendiamo finanziamo pure torniamo a loro continuiamo a distruggere i corazzati così poi vinciamo in un botto solo senza perdere altre unità direi che loro hanno mollato fanno solo più guerriglia quindi direi che la situazione è chiusa ok corazzati perfetto e anche l'ultimo bombardamento dei corazzati rivolta in cecchia parco cane allora intanto mandiamo colonizzazione partecipa con un finanziamento poi facciamo velocemente chiudiamo qua e poi andiamo di là a riconquistare tutto pronto sicuro non c'è problema tanto sono più 15 adesso noi facciamo un'offensiva rapida non organizzata non importa perfetto e adesso aggiungi riserve assegni un'operazione scommetti che adesso perdete un sacco avete tanti di quelle mazzate che ve le sognate li rimandiamo a zero dopo averli rimandati a zero li facciamo fronte sicuro tanto non hanno più carri facciamo una cosa l'istruzione dei corazzati ok abbiamo sviluppato i programmi culturali non so se fare tattiche anticarro o fare l'ultimo livello qua facciamo l'ultimo livello qua quanto costa il mantenimento 10 va benissimo dai qui dovremmo iniziare a ripagare un po' di debiti assegno uno operazione avanzata frontale potevo anche evitarmela forse e adesso facciamo offensiva rapida non organizzata e la chiudiamo perfetto ok ora qua si sta convertendo tutto ingenti danni di guerra sono 172 però potrei conquistare l'ucraina e chiuderla lì oggi direi che potremmo chiudere questa avventura con la conquista dell'ucraina solo che prima facciamo scendere un peridio danni di guerra ho comprato troppi unità di aiuto e poche e poca fanteria ma pazienza 010 di crescita del PIL ha lasciato blocco di aspetta aspetta ha lasciato blocco di Stati Uniti direi che amici miei io volevo dichiarare guerra di là ma mi sa che invece aspettare un attimino ma invece mi sa che l'Austria era nostro obiettivo già da tempo e sarà una conquista completa relazioni con la Russia più 6 navi meno 1 non abbiamo bisogno di alcun aiuto ma si accettiamo l'aiuto della Russia si teniamoci lì un po' buoni siamo riusciti a salvare parte dei marinai del Kursk è fantastico dovremmo essere straprimi ma per sicurezza ne investiamo ancora qualcuno il 23 di agosto ma si dovremmo poi fermarci qua credo tanto adesso ok questo è il modo migliore di aumentare il PIL secondo me bombardamento distruzione di aerei siamo in pari addirittura e ma noi abbiamo secondo me tanto malus dai danni di guerra che abbiamo vorrei forse rinunciare mi stai dicendo che devo rinunciare no dai distruggiamo un aereo se riusciamo a distruggergli un aereo il resto è fatto tutto viene deciso adesso se ci sbrighiamo anche non rimaniamo fermi qua come dei cretini oh benissimo perché adesso avendogli distrutto un aereo prima che loro lo ricreino perfetto ci siamo conquistati venere prima che loro lo ricreino quell'aereo adesso diventa molto più facile distruggergli l'ultimo perché lui ovviamente combatte con un solo aereo noi combattiamo con tre perfetto distruggergli i corazzati a questo punto perché loro non hanno più niente in difesa oh che palle sti terroristi della minchia da dove sono questi? non si sa distruggiamo l'ultimo cerchiamo di fare breccia inviamo dei non lasceremo nessuno indietro inviamo dei paracadutisti forze armate andiamo avanti con i carri non costa tantissimo perfetto saldiamo debiti aspetta oh perfetto malcontento meno uno siamo invincibili siamo invincibili anche perché stiamo conquistandolo la la aspettate paghiamo un po' di debito prima blocco di Thailandia distrutto offensiva rapida non organizzata e anche l'Austria ce la siamo riconquistata cazzo non ce l'abbiamo fa ah no perché loro hanno ricreato dei corazzati che sfiga mentre ero lì che facevo hanno ricreato dei corazzati vabbè pazienza gli risfondiamo adesso e poi gli rifacciamo in una offensiva rapida e abbiamo un guerrafondaio a zero addirittura peccato che abbiamo ingenti danni di guerra se no perfetto allora richiedi ottieni provincia conferma ci costa 35 perché lo annettiamo ok perfetto direi che siamo a buon punto ora rivendichiamo la Croazia perfetto ok e direi che per un secondo ci fermiamo siamo a incarichi apre una borsa valori elimina completamente la disoccupazione credo di non sia fattibile perché quanto abbiamo adesso di disoccupazione 001 eh vabbè in realtà è fattibile ma quanto mi darebbe eliminarla minchia mi da un sacco potrei attivare l'opzione ma no c'ho altro da fare nella vita 1000 1500 tanto adesso non ne stiamo sprecando tanti apri una borsa valori tanto comunque lo faremo andiamo a scendere un po' sti danni di guerra poi andiamo a prendere l'attacco terroristico in arrivo facciamo un'altra roba va perché questo in realtà mi costa 35 quindi no no lasciamo stare un attimo apri una borsa valori procedure di mobilitazione ma se c'è che tra un po' la farò un po' di fanteria no facciamo pure tutto fanteria perfetto oddio un'altra bomba ma quante guardate meno 0,69 che disastro meno 0,69 che disastro va bene io direi che ci possiamo fermare qua per oggi oggi ci siamo fatti questi quest'unica tirata ringrazio quelli che mi hanno seguito ci siamo fatti quest'unica tirata vogliamo ripressionare il nostro programma spaziale certo ci siamo fatti un'unica tirata di tre ore siamo riusciti a rendere la Romania però aspettate sentite facciamoci l'ultimo regalino facciamoci l'ultimo regalino dai ce lo siamo meritati di vedere tutto un'unica così abbiamo un po' di meno di border gore che è sempre una roba brutta istruzione di aerei abbiamo 5 a parte che secondo me potrei quasi batterli normalmente 1 istruzione di aerei 2 perfetto istruzione di aerei 3 così li ammazziamo tutti decimi in classifica generale ancora 2 aerei poi gli buttiamo giù un po' di carri a parte che vediamo un po' se riusciamo a fargli un fronte sicuro e danneggiargli degli aerei conversione completata russa occidentale minchia l'Austria quanto costa convertirla ma possiamo farlo indagini di una commissione internazionale abbiamo i fondi per pagarla tutta offensiva rapida non organizzata non agli aerei però ai carri questo non mi piace però uno gliel'abbiamo distrutto ci sta costando un sacco ed è stata una cagata fantastico allora distruzione corazzati intanto c'è solo più un aereo tra l'altro dovrei poi fare l'attacco terroristico ma pazienza lo faremo poi e allora rifacciamo offensiva rapida intanto arruoliamo relazioni con il mondo meno 15 ah perfetto ok va bene allora facciamo solo una roba veloce arruoliamo che poi mi dimentico no 14 ah perché le avevo già arruolate torniamo a 20 comunque ma tutta questa facciamo una pace con loro ottini provincia 61 di guerra fondaio è tollerabile signori dopo 3 ore di combattimento aspettate facciamo anche ancora una ricerca anche questo che poi me lo dimentico tattica anticarro mi piace non costa tanto e paghiamo anche un po' di debito così lasciamo le cose un po' pulite signori dopo 3 ore di combattimenti nel 2055 la nostra piccola Romania ormai tanto più piccola non è siamo diventati una specie di blob che dai confini di Mosca si spande fino ai confini della Germania potremmo essere schiacciati da più direzioni se non avremo un guerrafondaio altissimo temo quando inizieremo la prossima volta ma ci fermiamo qua io vi saluto vi ringrazio per chi mi ha seguito io mi sono divertito un sacco a streammare ritroverete questo video diviso credo in 6 parti da mezz'ora sul canale ci vediamo la prossima volta lo avvertirò sulla pagina facebook quando sarà la prossima volta io credo la prossima settimana faremo di nuovo magari un 3 ore di streaming vediamo perché questa settimana che sarebbe ancora domani potrei solo al mattino ma al mattino giustamente chi cacchio mi segue e sabato e domenica no perché lavoro o sono impegnato direi che la prossima settimana riprenderemo il nostro il nostro lavoro alla prossima io mi sono divertito un sacco spero vi siete divertiti anche voi ciao ciao faccio vedere che salvo tra l'altro così salva partita ma si nuovo salvataggio guardate l'ultimo era la grande orda e chiudiamo uscendo così grazie a tutti Grazie a tutti.